Non riesce la signora Perugia a compiere il miracolo questa volta, i Block Davids si devono rendere eliminati dalla Champions League nella gara di ritorno di ieri, vincono per 3 a 2 su Trento ma il risultato non basta, adesso la squadra di Einen dovrà concentrarsi esclusivamente sul cammino playoff scudetto. Andiamo sulla gara di ieri, la semifinale di ritorno di Champions League sintetizzata per noi da Elena Ballerani. Spuma il sogno di conquistare la finale di Champions League per la Sirsicom a Monini Perugia che tra le mura amiche del Palabarton dopo una partenza a mille nei primi due set che si sono chiusi 25 a 22 e 25 a 17 con percentuali altissime in attacco, un sontuoso 71 per cento nel solo secondo set, cede poi alla grande rimonta dell'Itas Trentino che vince il secondo set combattuto punto a punto e che si è aggiudicata con un parziale di 23 a 25 e poi vince anche il quarto set che vale l'accesso alla finale di Champions League in virtù del 3 a 0 dell'andata e lo chiude 17 a 25. La Sir vince la partita conquistando il tiebreak 15 a 6 ma è Trento ad andare in finale il primo maggio alla BLM Group Arena di Verona. Per quanto riguarda gli altri numeri di questa partita, 12 block vincenti per i ragazzi del presidente Gino Sirci, particolarmente incisivi anche in battuta con nove ace a fronte di soli due servizi vincenti della squadra di Lorenzetti che chiude con un 42 per cento di positività di squadra a fronte di un 53 per cento dei block devils e mette a segno anche nove block vincenti. Trento dunque vola in finale di Champions League, la Sir torna in campo qui al Palabarton sabato prossimo alle 20 e 15 per gara 1 delle semifinali Scudetto contro Monza. Abbiamo sbagliato noi, quindi loro non è che hanno fatto una grande prestazione, hanno fatto una prestazione onesta e chi gliel'ha regalata siamo noi, ecco perché li abbiamo veramente, li abbiamo favoriti. I target erano due, ci concentreremo sullo Scudetto perché è la portata nostra e speriamo di non ripetere questi tipi di errori, queste leggerezze. Oggi abbiamo giocato due set eccellenti, il nostro meglio livello dell'anno e dopo anche il terzo set abbiamo giocato bene, ma anche Trento gioca bene e tu sai per andare in Verona in finale tu devi vincere il set che sono vicini. Tu hai un set di 23, tu non prendi, dopo tu paghi un prezzo. Allora abbiamo perso due set, un set in Trento, un set adesso qui a 23, se tu non prendi un set così è difficile.